Eccolo qua Stefano per la seconda volta, non vi diciamo, corso di Napoletano, non vi diciamo neanche questa come è fatta perché non ve lo meritate, perché non avete ancora cliccato su book.giocapizza.com, quindi niente. Però possiamo dire solo una cosa, che quella già era la cosa. Qua c'è l'avanzo di una Marghe e qua c'è questa che adesso vediamo. Da non credere. Ti sei convinto o no? Partivo scettico, partivo molto scettico come ho detto a Giove, poi in effetti è come mangiare un salatino, cioè se provaste questo cornicione adesso, cioè se riesci a inquadrare qua, guardate quanto è sottile qui, guardate qua, cioè sembra di bucarlo. Ed è pazzesca, è pazzesca, cioè vale tutti i soldi del biglietto, prenotate finché potete. No, devi dire il doppio perché così io gli aumento. Vale anche il doppio, eh? T'accappi! Ciao!